Io sono stata molto fiera di scrivere la prefazione di questo libro, lo dico davvero al di là delle parole di rito che si spendono in occasioni come queste, perché senza volere in alcun modo mettere cappello su un'esperienza che è soprattutto un'esperienza di libertà, il lavoro che loro hanno fatto con Kelsey a me sembra qualcosa di molto simile a quello che noi abbiamo fatto per certi versi con Fratelli d'Italia. A me piace dire di tanto in tanto che Fratelli d'Italia è un po' il premio bancarella della politica, voi sapete che nei libri funziona che ci sono i premi letterari, sono premi che vengono dati delle volte a dei libri sulla base di indicazioni, dei critici, tu poi leggi questi libri e dici bello, poi c'è il premio bancarella che è quel premio che viene dato a quei libri che vincono per il passaparola dei lettori e sono una garanzia, quando tu compri un libro che ha vinto il premio bancarella sono tutti libri straordinari, perché sono banalmente quei libri che nessuno ha interessi a che tu compri, ma che semplicemente sono il prodotto migliore, il prodotto più spendibile, che piace di più. Io delle volte dico, quando parlo nelle iniziative politiche, Fratelli d'Italia è un po' il premio bancarella della politica, perché non c'è nessuno che ci spinge, non ci sono lobby, interessi, poteri forti che stanno lì a dire che bisogna votare per, però speriamo di riuscire per il passaparola dei lettori, per la credibilità del prodotto che offriamo a crescere, speriamo di riuscire a crescere, ecco il lavoro che Kelsey ha fatto in questi anni, cioè il lavoro di ragazzi liberi, persone che hanno qualcosa da dire, che la dicono senza filtri, che non hanno padri e padroni, che non hanno una linea editoriale che sia imposta da qualcuno che semplicemente credono in qualcosa e lo raccontano senza filtri e lo raccontano con l'onestà con cui si devono raccontare anche le idee nelle quali si crede, cioè il tema secondo me è tema che manca spesso alla informazione italiana, al giornalismo italiano, al mondo della cultura italiano, soprattutto quello che è stato voluto da certa sinistra in Italia per cui se tu non rispondevi all'ordine di scuderia non lavoravi, ma anche delle volte quello che è stato rappresentato dal centrodestra italiano e è mancata la capacità di approfondimento, è mancata la capacità di mettersi in discussione, di approfondire, di criticare perché si potesse anche crescere, io penso che il lavoro che è stato fatto in questi anni da loro sia un lavoro per il quale noi li dobbiamo ringraziare perché è un lavoro di grande libertà e quindi quando tu riesci a leggere un prodotto di libertà, di coerenza ti aiuta a crescere, aiuta a crescere tutti e penso che abbia rappresentato anche un sano punto di riferimento per buona parte di quelli che credono in certe idee e che non sempre hanno trovato quella libertà in quelli che si definivano giornalisti, in quelli che si definivano intellettuali, in quelli che si definivano anche politici. Dopodiché penso che nella storia della sinistra italiana che qui viene raccontata ci siano tante cose che noi conosciamo, che io ho tra i primi anche denunciato, mi ha ricordato un lavoro che feci quando ero molto ragazzina, che era quel lavoro di denuncia della faziosità dei testi scolastici, a un certo punto quando ero, Alessandro se lo ricorda, mi occupavo della politica studentesca del movimento giovanile, di alleanza nazionale eccetera, facevo un'estate, comprai tutti i testi dell'ultimo anno del liceo, quelli che trattavano la storia del Novecento e facevo un opuscolo con il quale denunciavamo quanto i libri che venivano adottati nelle nostre scuole fossero in realtà faziosissimi rispetto alla nostra storia più recente e in particolare citammo l'esempio poi diventato famoso, dal quale poi è nata anche una rivoluzione se volete culturale in Italia che era la vicenda delle foibe, cioè di migliaia e migliaia di italiani massacrati in un disegno di pulizia etnica dalle truppe partigiane del maresciallo Tito, verso i quali aveva una grave responsabilità il Partito Comunista Italiano e segnatamente Palmiro Togliatti, quando le truppe di Tito, apro il piuto parentesi, entrano a Trieste il 1 maggio del 1945, il Partito Comunista Italiano fa affiggere un manifesto per dire ai cittadini di salutare quelle truppe come liberatrici, nei 40 giorni dell'occupazione di Trieste scompaiono 17 mila persone, i liberatori e siccome c'era una responsabilità del Partito Comunista Italiano e siccome quelle vittime, nonostante fossero vittime della loro identità, cioè persone che venivano massacrate esclusivamente per il fatto di essere italiane, di sinistra, di destra, giovani, vecchi, cattolici, atei, di qualunque estrazione, venivano ammazzati perché lì si puntava ad occupare, questo non si poteva raccontare perché erano stati massacrati da dei partigiani e perché in qualche maniera il Partito Comunista Italiano aveva avuto delle responsabilità e noi denunciavamo questo non perché ci interessasse tanto capovolgere la storiografia, ci interessava che una nazione degna di questo nome potesse difendere i suoi martiri prima di ogni cosa, prima dell'interesse di parte e prima dell'interesse di partito e questo è uno dei tanti esempi di quello che nell'Italia repubblicana, nell'Italia antifascista non si è potuto raccontare e che ci ha impedito di avere una memoria storica unica condivisa che ci consentisse anche di mettere l'interesse nazionale prima degli interessi di parte. Loro raccontano molto bene la faziosità curiosa con la quale alcuni italiani noti sono stati fascisti e antifascisti, la faziosità, la convinzione apparente con la quale la stessa persona è riuscita a sostenere con forza una tesi estrema e il suo esatto contrario ed è un po' un simbolo di questa Italia che è l'Italia dei Volta Gabbana e che è l'Italia degli italiani contro gli italiani, cioè del fatto che noi riusciamo a fomentarci molto di più nello scontro tra di noi che nello scontro con l'altro da noi, da sempre, nord contro sud, datori di lavoro contro lavoratori, fascisti contro antifascisti, giovani contro vecchi, tutto quello che ci divide al nostro interno per noi rende molto di più di tutto quello che dovrebbe unirci anche nel confronto con l'altro da noi, è esattamente quello che ci ha reso deboli ed è il punto di partenza per capire tutti i grandi problemi dell'Italia, perché la verità è che l'assenza della nostra dimensione di popolo che è figlia anche di quella storia e di quelle responsabilità soprattutto di certa intelligenza, è quello che poi ci ha trasformato in tante monadi egoiste e che fa proliferare tutti i fenomeni che noi conosciamo, dalla criminalità organizzata all'evasione fiscale passando per la corruzione, tutto è figlio del è il mio interesse, metto prima il mio interesse perché non mi sento legato agli altri e quindi prendo tutto quello che posso prendere per me e del resto chi se ne frega. E questa faziosità la sinistra italiana ce l'ha più di tutti e ce l'ha a 360 gradi, loro citavano il tema e vado alla conclusione della cosiddetta superiorità morale della sinistra che forse è il più affascinante, no. Allora ieri sera ero a Ballarò e c'era Alessandro Gasman e Alessandro Gasman è stato lì a spiegarci una quindicina di minuti che praticamente lui individua la sinistra in questa lettura molto approfondita, molto profonda, dice la sinistra su tutti quelli che stanno con la brava gente e la destra sono tutti quelli che rubano, vado un po' curioso di leggere la politica e l'Italia, che a me non piace, non mi piace perché in generale non mi piacciono le persone faziose, penso che le persone giuste debbano essere molto più dure verso quelli che con te condividono un ideale e lo tradiscono rispetto a quelli che con te quell'ideale non lo condividevano. La sinistra in questo è sempre stata capacissima di spiegarci che loro sono quelli onesti e tutti gli altri sono dei ladri. Poi la storia ci ha raccontato qualcosa di abbastanza diverso, ma questo l'abbiamo visto negli ultimi 70 anni di storia repubblicana, lo vediamo a maggior ragione in queste ore e in questi giorni, avete seguito la vicenda Lupi, no? Ora senza voler difendere il nuovo centrodestra perché immaginate come la possa vedere io sul nuovo centrodestra, però Lupi si è dimesso, spinto da Renzi a dimettersi perché ha accettato che una società di costruzioni gli regalasse, o comunque un esponente legato al suo lavoro regalasse un orologio a suo figlio, perfetto, non c'è un avviso di garanzia, non è illegale, ma è politicamente inopportuno, sono d'accordo, però allora dovrebbe essere politicamente inopportuno anche che so che il governo faccia un decreto sulle banche popolari in forza del quale la banca che riesce a rafforzarsi più di tutte è quella della quale è vicepresidente il padre del ministro dei rapporti col Parlamento, Presidente. Allora è eticamente inopportuno anche che la società di famiglia del Presidente del Consiglio faccia pagare 200 mila Euro di debiti dai contribuenti italiani attraverso un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico, proprio mentre Renzi è Presidente del Consiglio. Allora è eticamente inopportuno anche che il Ministro del Lavoro stesse a cena una sera sì e l'altra anche con tale Buzzi, diciamo grande nome di mafia criminale, così come forse era politicamente inopportuno, ma questo nessuno l'ha detto perché oggi Buzzi è il nemico numero uno e tutti hanno dimenticato che Buzzi era uno che era stato condannato per aver ammazzato una persona e che era stato graziato da un Presidente della Repubblica non esattamente di centrodestra e cioè Oscar Luigi Scalparo, il peggiore Presidente della Repubblica della storia italiana. Ci sono tante cose che in Italia hanno due pesi e due misure e a me non piace, non mi piace mai, non mi piace il modo che la sinistra ha di strumentalizzare tutto, non mi piace il modo che la sinistra ha di pretendere di dare elezioni quando obiettivamente non può darne. Il tema delle cooperative in Italia è tema che rappresenta questo problema benissimo. Quando, e chiudo veramente, qualche mese fa abbiamo cominciato a fare una campagna per dire scusate, com'è possibile che nell'Italia di oggi, nell'Italia nella quale una pensione sociale pari a 480 Euro, la pensione minima a 503, servano 900 Euro per mantenere un immigrato richiedente asilo? Ci hanno risposto siete razzisti e oltretutto questi immigrati vivono in condizioni insumane, perfetto, e allora questi soldi dove finiscono? Quando abbiamo fatto questa campagna ci hanno risposto che eravamo razzisti perché loro sono così, poi si è scoperto che alla sinistra italiana l'immigrazione piace così tanto perché le cooperative rosse ci mangiano soli. E questo non è esattamente essere moralmente superiori, non è esattamente essere moralmente superiori. Quindi la cosa buona di tutto questo, di tutta questa storia è che ad alcuni di noi anticonformisti, di quelli che si divertono a stare dove non stanno tutti, di quelli che si divertono ad andare nel profondo delle cose, a scavare, di quelli che non sono faziosi e che quindi le cose le vogliono capire prima di decidere, questo ha insegnato tantissimo e ci ha aiutato ad avere una libertà che forse in altre nazioni non si ha, di scavare, di cercare, di crescere e di continuare a mettersi in discussione. È quello che raramente ha fatto la politica, è quello che raramente ha fatto il giornalismo, è quello che sicuramente hanno fatto Silvia, Eugenio e tutte le persone che hanno lavorato a Kelsio. Grazie.